ben ritrovati voi tutti cari amici ora parliamo di tennis torneo atp di new york usi cemento a coperto nella finale giocata ieri sera in tarda serata italiana alle 22 10 purtroppo il nostro tennista con nazionale andrea seppi numero tp 80 non ce l'ha fatta perso per 2 7 a 0 contro edmund numero tp 45 con i punteggi di 7 5 6 1 in un'ora e 21 minuti 44 minuti il primo e 37 il secondo set vittoria di edmund può dare da 1 e 36 1 e 37 1 e 34 camma fa il nostro seppi non ce l'ha fatta ciao a tutti